Buonasera a tutti voi traders e investitori, martedì 22 ottobre ed è già il momento di fare un po' un check della situazione, il punto della situazione per quanto riguarda i mercati. Visto che la settimana è iniziata, ma luccio è iniziata sotto il segno delle vendite e se fino a ieri, diciamo così, abbiamo anche preso alla perfezione sia i livelli di resistenza che i livelli di supporto, oggi c'è qualche sorpresa di più, qualche timore in più e oggi era una giornata anche difficile da inquadrare, lo abbiamo scritto già questa mattina prima dell'apertura dei mercati quando andiamo a dare i livelli di supporto e resistenza per 4 indici, Fuzzimib, DAX, SP500 e Nasdaq sul canale Realtime, ovviamente leggibile anche per gli abbonati premium, era una giornata difficile, avete presente quando consultate le previsioni meteo e vi dà una serie di dati e poi in alcune giornate mette previsione complicata. Ecco, oggi per quanto riguarda i mercati era una giornata da previsione complicata, perché dico proprio oggi? Perché fino a ieri il movimento, diciamo così, poteva starci tutto, arriviamo da un'ottima settimana al rialzo, ieri un minimo di presi di beneficio ci stavano, ci siamo spinti e sopra quota a 35.270 punti, abbiamo fatto un massimo a 35.277 e il nostro livello di resistenza proprio per ieri è a 35.280, per cui preso con precisione e poi ci siamo così adagiati, però riuscendo a mantenere il supporto, dopo vediamo tutto nel dettaglio. E oggi c'era da capire un po' se volevamo proseguire nella discesa, come poi è stato, o se dare subito una sorta di reazione. Questa mattina il titolo che ho voluto dare a questo video è identico al messaggio di pre-apertura dei mercati, ovvero le buone notizie sono finite. E dall'altra, a fare da contraltare però c'è la miniatura di YouTube che dice, animo, vi spiego perché. Le buone notizie sono finite perché nel breve periodo adesso abbiamo una serie di questioni in ballo, non solo nuove questioni in realtà, ma i tempi adesso stringono. Abbiamo appuntamenti importanti, ad esempio con le elezioni americane, gli ultimi sondaggi dicono che Trump sta recuperando, anzi forse potrebbe essere addirittura favorito, quindi c'è un ribaltone rispetto a quando Biden ha lasciato il passo al posto di Kamala Harris. Ho ovviamente anche io una mia preferenza tra i due schieramenti, non vi dico quale, ma vi dico quello che non mi piace sia per quanto riguarda i democratici che i repubblicani. Tutti e due hanno programmi che prevedono grandi indebitamenti per gli Stati Uniti, negli Stati Uniti che ormai incominciano ad avere un debito davvero elevato e è già qualche anno che cercano di alzare questo debito e prima o poi penso che qualche problemino ce l'avranno anche loro. Per cui appuntamenti importanti alle elezioni americane che si sta avvicinando. Treasury decennale USA che ieri era il 4,20 per cui siamo tornati ai livelli di luglio e quando il Treasury decennale sale così tanto è un campanello d'allarme per l'azionario, così come un campanello d'allarme ed è salito anche l'indice BIX, detto anche l'indice della paura, poi c'è in questo periodo la riunione dei BRICS per cui il fronte diciamo anti-occidente potrebbe consolidarsi, anche qui qualche noia potrebbero portarcela indubbiamente e poi abbiamo altri appuntamenti, ad esempio c'è la Federal Reserve, ci sono le minute, bisogna capire cosa farà la Fed adesso visto che siamo proprio a ridosso delle elezioni americane e poi a così complicare ulteriormente il quadro e poi incomincia la stagione delle trimestrali, non solo in America ma anche a Piazza Affari cominciano ad arrivare i vigli, per cui sono tante incognite, tante variabili e al momento di tutte queste incognite non vedo prevalere diciamo così un senso di positività, un senso di ottimismo, per cui oggi era giusto così forse stare un po' fermi sui mercati come siamo rimasti noi per capire un po' che area volesse prendere il mercato e oggi il mercato rompendo i minimi di ieri sembra proprio voglia dirci che voglia correggere un pochettino e penso anche che sia forse la migliore delle ipotesi che mi sono fatto personalmente ovvero quella di correggere in questo mese di ottobre, da qui alla fine di ottobre era un po' chiamata, l'ho detto anche nel weekend agli iscritti al canale premium che dopo le euforie di settimana scorsa mi aspettavo qualche scossone ma per poi arrivare magari all'appuntamento più importante alla linea che tiriamo tutti al 31 12 fine dell'anno con i prezzi magari superiori a quelli che abbiamo oggi ma che ad esempio avevamo anche settimana scorsa andiamo un po' a vedere i grafici, cominciamo dal grafico del Fuzzinib, questa è la situazione sul grafico giornaliero ieri un massimo 35.277 punti, il nostro livello di resistenza che potete andare a verificare sul canale free, un canale telegramma d'accesso libero dove riportiamo in differita di qualche ora o di qualche giorno invece tutte le segnalazioni che diamo a mercato aperto ebbene troverete che per ieri avevamo segnalato quota 35.280 punti come livello di resistenza preso al bacio e come livello di supporto esattamente i livelli in cui Fuzzinib è andato a chiudere e ha registrato anche i minimi 34.950 punti, chiusura a 34.955 ieri abbastanza facile inquadrare anche un movimento del genere nonostante la candela di ieri sia anche particolare, la candela outside, prima siamo andati a rompere i massimi per poi andare a rompere i minimi e chiudere i minimi ovviamente di venerdì per poi chiudere sui nostri minimi di seduta oggi è più complicata perché bisogna capire dove saremmo quantomeno partiti partiti deboli perché noi partiamo anche con un leggero gap down gap down che penso ci sia ancora si abbiamo un massimo a 34.945 e il minimo di ieri 34.953 per cui qui c'è uno spiffero e poi siamo scesi fino alla soglia dei 34.500 per oggi sinceramente si immaginava un supporto in area 34.880 vi faccio vedere anche il grafico 5 minuti e qui in effetti questo livello dove un minimo questa mattina abbiamo tentato di fare una base ci sono state alcune candele le prime candele la prima chiude esattamente sui 34.880 la seconda chiude sotto e trova un massimo 34.880 poi una serie di su e giù sempre con questo 34.880 che torna anche sulla quarta candela insomma vi dicendo poi rotto questo livello abbiamo accelerato a ribasso e siamo andati fin sui minimi quasi in area 34.500 punti salvo poi risalire un po' sul finale dopo vediamo anche cosa ha combinato il DAX per domani ve lo anticipo visto che abbiamo rotto questi 34.880 immagino che possa essere anche una resistenza un livello di resistenza per domani poi bisognerà vedere come evolve qui la situazione perché con la rottura anche di questo minimo come anche questo già anticipato ci sarebbero un buon mille punti da perdere dai minimi fatti registrare le 1d per cui potremmo addirittura portarci ancora nuovamente in area 34.000 punti tranquilli senza intaccare il trend di fondo ma comunque sia andando a ballare andando a ricoprire un altro gap che ad esempio è qui presente per cui vediamo per quanto riguarda il DAX invece la seduta è stata un po' diciamo così tra virgolette falsata non è falsata assolutamente è falsata rispetto a quello che immaginavamo noi questa mattina il DAX era partito piuttosto bene inaspettatamente bene con un massimo a 19.591 punti perché c'è un titolo SAP un titolo tecnologico guarda caso che pesa abbastanza e insomma ha mantenuto il DAX un pochettino più in alto nelle prime battute poi il DAX comunque si è allineato va a chiudere a meno 0,20% anche in questo caso un livello abbastanza importante l'abbiamo dato oggi 19.400 punti che è il livello che è stato testato e subito abbiamo visto una reazione dopodiché una piccola sbagliatura sotto il recupero un riteste di 19.4 per cui era un livello importante per la giornata e poi chiusura come abbiamo appena visto a 19.421 punti anche per il DAX la stessa cosa più o meno per quanto riguarda Piazza Fari si è chiuso il gap anche lui non deve ammollare assolutamente i minimi di oggi se no anche lui può andare tranquillamente incontro a discese ad esempio in aree 19.200 punti e questa situazione si sblocca con un segnale positivo ovviamente quando riesce a trovare un massimo storico per quanto riguarda Stati Uniti diamo un'occhiata al volo segnalato in real time il livello che non dovrebbe cedere assolutamente il Dan Jones ovvero questi minimi su cui anche oggi c'è stato un affondo e adesso al momento sono le 18.03 sta recuperando ma insomma vediamo un po' come è la chiusura non dovrebbe perdere questi minimi altrimenti anche per quanto riguarda il DJ ci sono possibilità di perdere almeno altri 300-400 punti che per l'SP500 anche qui il recupero si sta sui massimi non c'è diciamo per adesso un segnale di allarme qui l'allarme scatterebbe sotto quota io stare un pochettino più largo non proprio esattamente questi minimi ma quanto meno sotto i 5.800 punti Nasdaq 100 invece di tutt'altra pasta insomma qui secondo me si va si andrà a lineare con gli altri indici per cui cerca il suo massimo storico siamo sui 20.319 punti e questo è il Nasdaq ovviamente come il Nasdaq 100 nel frattempo rispetto alle ultime commenti ci siamo effettivamente andati a richiudere il gap e queste spike questi minimi sono esattamente trovati in concomitanza con la richiusura del gap per cui qui c'è ancora volontà insomma di non fermarsi e per cui vedo anche qui altri nuovi massimi anche per quanto riguarda il Nasdaq l'Eurostox fortunatamente non molla questo incrocio di medi immobili la 100 e la 200 sono tutti minimi importanti una fascia supportiva importante o va da sé che non dovrebbe cederla altrimenti si fa dura per tutti i listini e si fa dura anche per cazzafari e speriamo insomma ciò non avvenga speriamo invece non consolidamento magari un po' di presi di beneficio in attesa di insomma di ritornare a mettere carne al fuoco che potrebbe anche arrivare velocemente nel caso per quanto riguarda la positività sui mercati arrivassero ad esempio buone trimestrali oggi per quanto riguarda piazzafari questo è il colpo d'occhio mi levo come vedete ci sono vendite sia sulle utilities e nel ad esempio a 2a e vi dicendo non ci sono utilities in verde la peggiore è erg ve ne avevo parlato nell'ultima video analisi su tutti i titoli del fuzzimib abbandonate quota 23 euro era diretta secondo me ancora in area 21 vediamo se se ci arriva come ci arriva e via dicendo settore finanziario banche in rosso ma delle banche non dico nulla anche perché c'è un bellissimo video io vi consiglio di vedervelo in anteprima costa una scemenza vi abbonate al canale con 99 centesimi al mese un dito dite per cui pagate quasi un caffè dico quasi un caffè perché a Milano il caffè sta già abbondantemente sopra l'euro anche 1.20 1.30 e vi vedete magari qualcosa di interessante e qualcosa che magari potrete anche riuscire a sfruttare e poiché dire per il resto poca roba STM finalmente più 1.79 riesce un po' a seguire i tech e soprattutto un po' rinfancate insomma dai conti di dei produttori di chip per il resto poche pochissime novità in attesa di capire insomma che piega prenderà il mercato nelle prossime sedute diamo un'occhiatina al petrolio che non è che regali chissà quali emozioni perché non fa nulla di particolarmente rilevante i supporti sono sempre quelli e anche le resistenze sono sempre quelle ve lo faccio vedere un attimo è sceso nuovamente sotto quota 70 dollari però è riuscito a trovare un piccolo appiglio che è questa trendline anzi possiamo disegnarne diverse ma diciamo così ha tenuto quella più più alta per cui bene ma qui la situazione è sempre in divenire insomma ormai non c'è una notizia che riesca più di tanto a muovere nemmeno i listini è anche una notizia negativa per questo sono abbastanza fiducioso anche oggi leggevo ad esempio su Corriere c'è tutta la cronistoria delle notizie negative che sono uscite magari anche di guerre come hanno influito sul lungo periodo per i mercati praticamente nessuna notizia negativa è riuscita a scalfire poi i long e comunque sia l'avanzamento dei mercati nemmeno le guerre mondiali e fa un po' specie ma lo stiamo riscontrando anche in questi giorni non c'è non c'è una notizia negativa anche in Medio Oriente anche lo sconfinamento in Libano per quanto riguarda le truppe di Israele nessuna nuova notizia che riesca a impattare molto negativamente tutti i movimenti praticamente vengono riassorbiti e mi sembra anche che vengono riassorbiti sempre più velocemente detto questo occhi sempre aperti vero detto se rompiamo i minimi a registrare oggi secondo me ci sono mille punti da perdere dal minimo di lunedì per quanto riguarda il Fuzzinip grazie per l'attenzione e alla prossima